Ti viaggia? Si, sta un po' in chiaro scuro In chiaro scuro, indietro? No, no, più sciolta, come sta? Ok, allora Faccio uno shaker Vabbè, dimmi tu, sei pronto? Ci sei? No, ci stavo Possiamo andare? Si, tanto tu la dai, lasci, no? Si, si Ciao, sono Doniziano Cristofaro Sono regista romano Ho iniziato la mia carriera da regista a Los Angeles nel 2008 Con il film House of Flash Manikins Il film è diventato un piccolo calte a livello internazionale E da allora ho realizzato circa 11 film Di cui distribuiti ne abbiamo 7-8 E da novembre 2014 i film saranno reperibili anche in Italia O appunto dell'Explorer Quindi insomma invito a riscoprire anche il mio cinema Attraverso la distribuzione ambita italiana Visto che finalmente non bisogna reperirli soltanto di importazione Allora io nasco principalmente nel teatro In cui ho debuttato all'età di 18 anni Nasco come danzatore e performer E fino a qualche tempo fa ho comunque lavorato in teatro Come attore e cantante E diciamo che sicuramente il teatro ha influenzato il mio modo di fare cinema Perché comunque l'impronta teatrale penso che si veda nella costruzione delle scene A tempo pieno lavoro come tatuatore anche Perché comunque è difficile vivere di cinema in Italia Insomma solo di cinema Bisognerebbe fare un tipo di prodotto forse più commerciale Per poter lavorare frequentemente Io ho scelto di fare un prodotto più di nicchia Più indipendente Quindi non è la mia forma di sostentamento Anzi a volte anche una remissione Lavoro come tatuatore Lavoro quindi molto con il corpo Con il sangue E penso che sì Forse questo rapporto con il corpo Sia comunque una parte anche fondamentale Del mio modo di fare cinema Non tanto perché si vede uno tatuaggio Di gente tatuata Quanto perché comunque ecco Ho una percezione forse del corpo E del dolore Differente dalla media comune Quindi la indago poi E rappresento nei film Anche con una certa leggerezza E scioltezza che altrove non si vedono Stasera Labus Vedremo Dol Sindrome Che è il mio ultimo film Fa parte di una trilogia Una trilogia iniziata con Red Crocodile Che è stato presentato sempre qui in settimana Red Crocodile era il purgatorio di questa trilogia Dol Sindrome rappresenta l'inferno È un film che è stato considerato Forse tra i più estremi del decennio Ma dalla critica A sorpresa anche forse il mio film è migliore È un film che affronta Con diverse chiavi di lettura L'idea dell'inferno L'inferno privato L'inferno sono gli altri Quindi è una storia di tre personaggi Che diventeranno in qualche modo Ognuno l'inferno di un altro Ho lavorato anche come effettista nel cinema Nel mio primo film Non ho curato io gli effetti Nei film successivi Sì Un aspetto che Era uno dei miei lavori al cinema Quindi è una cosa che porta avanti Anche perché preferisco curare Quasi tutti gli aspetti del film In Dol Sindrome per esempio Ho curato gli effetti La fotografia Il montaggio Il sound design Ho fatto praticamente Posso dire che è un mio film A tutti gli effetti Perché è una creatura mia Al 99% Guarda come fonti di ispirazione Dei miei lavori In realtà Cerco di non Di non prendere Appunto ispirazione Cerco di Quando lavoro a un film Per esempio Smetto di guardare film O di leggere Proprio perché cerco di sviluppare Una mia visione È chiaro che mi rifaccio comunque A un certo tipo di cinema I miei idoli sono Bob Foss Polanski Fellini Frizzlandi Quindi sono sicuramente I loro insegnamenti Nello stile Nella ricerca Nella costruzione Di un film Sono importantissimi Poi appunto Cerco di mantenere Un occhio abbastanza distaccato È chiaro che poi L'omaggio Magari anche involontario Cade Però Ecco Cerco di non Di non avere Un mito Un modello Da seguire Anche perché insomma Sicuramente sono i miei Sono modelli troppo alti Quelli per pensare Di raggiungerli Guarda La censura in Italia Esiste Chiaramente come esiste Nel resto del mondo Forse la nostra È un po' più Non dico bacchettona Ma è anche la più imprevedibile Perché poi Magari Ti danno Che ne so Divieto ai 18 A film come Apocalipto E poi ti fanno film per tutti Quelli di Natale Che sono pieni di parolacce Nudi E vulgarità Quindi non si capisce Il confine Tra morale E educativo Per certe persone La violenza E il nudo Non possono essere Il metro di Di giudizio Del valore Del contenuto Di un film Cioè A quel punto sarebbe come Beh Tuttora insomma In Italia Vengono considerati Pornografie E lavori di Pasolini E questo la dice tutta Quello che per noi Dovrebbe essere Fonte di grande ricchezza Anche intellettuale Spesso Diventa poi L'opposto Perché comunque Il male Nell'occhio di chi guarda Non abbiamo Una Una critica Una competenza tecnica Sotto tutto il punto di vista Di quelli che poi Sono i censori Che sono principalmente Purtroppo Dei burocrati Non possiamo pretendere Che un burocrati Poi sia in grado O appunto Se Varia da persona a persona Insomma Generalmente Quello che è Un animalista Perché la commissione È composta da questi Animalisti Associazioni di famiglie Eccetera Non possiamo magari Ecco pretendere Che abbia la preparazione Per comprendere Culturalmente Certi film Tra l'altro Mi raccontavano Un aneddoto Che anche L'era glaciale 3 Era A rischio Del diviato Dei 18 Perché Appunto Gli animalisti Si erano opposti Allo sfruttamento Dell'immagine Dell'animale stesso Insomma Quindi In Italia Sotto questo punto di vista È un paese Che si fiora in ridicolo Per quanto mi riguarda Io Non esco Quasi mai in sala Quindi Non ho Il problema Della censura Avrei il problema Comunque Della censura Se dovessi La stare in sala Perché Comunque I miei film Contengono Nudità O violenze E queste sono cose Assolutamente Inconcepibili Per quello che è In realtà Il mercato Perché non è un fattore Culturale Il cinema è diventato Un mercato Quindi Bisogna pensare Alla vendibilità Di un film Un film Che può avere Nudo violenza È un film Soggetto a censura Quindi Ti porta a meno Pubblico in sala Perché già un film Che vi è dato 14 18 Ti limita Un pubblico di famiglie Quindi I gestori De cinema Non prendono I film E con i divieti E automaticamente I distributori Non si sentono Autorizzati a distribuirli Quindi è un cane Che si morde la ruota Insomma Ci scordiamo Quella bella libertà Anni 70 E 80 Che era il nostro cinema Che ha fatto scuola In tutto il mondo A cui tanti Si ispirano Che di Tarantino E noi stessi Oggi invece Siamo proprio Schiavi Di un'industria Che sta diventando Un veicolo cieco Ma ce la possiamo fare Ringrazio il pubblico Di magazine Grazie per la pazienza E la saluto Grazie a te